Salve a tutti ragazzi, si va bene, che cazzo è il mic show, ci facciamo, no vabbè va bene così, mi sono rotto il cazzo Vabbè, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui il vostro amico, se oggi siamo su Battlefield 1, mi stavo dicendo online, non lo so perché Vabbè, oggi non è giornata, comunque potete sentire ho cambiato di nuovo joystick, ho messo il mio Rai Juno E ora, penso che giocherò meglio, già mi sento più skillato raga, già mi sento più skillato Mi va bene se però non ne prendo Ok Siamo in vantaggio Oh che cazzo è Ma perché sono medico, ah vero questo è medico Sono della merda Ecco una cassetta medica C'è gente qua sopra raga Oddio chi sei Eh vabbè quel pompa addirittura, quanta cattiveria Ma si è fatto pure il mio amico Aspetta, io però volevo mettere il cecchinazzo Sono metto il pompa, vabbè sì, eh sì doc Dove ero prima? Sì, dove ero prima GG4Me Preso Come vedete vedere non è un'arma top di gamma Però Non fa nemmeno schifo sta arma Bella E plazzo Mettiamo dove pure noi il gas No dobbiamo, dobbiamo rimetterla sta cazzo di maschera Ok, quando cazzo finisce sto gas di merda Mai Perfetto Sono un genio Ho preso un'arma con il cecchino Ok, perfetto Ma senti, muori col gas pure tu Oh l'ho ucciso Ultima che il mio col gas ha dato lì trossa Ce ne sono andato in una partita già iniziata E non me ne sono accorto Super positivo Buono Attimo No, comunque ancora non sono super skillato però Con questo joystick già mi sento molto meglio di quello Vabbè facciamo un'altra Cazzo ne sapevo che era Io ho convinto, ho detto Ah, registriamo Bella, sta mappa mi piace Bello positivo Ecco, guardate raga Non modifica tutte ste cose Mitra RCC base Ti dice l'arma che aveva E quelle cose là sotto non so cosa Ci hanno cambiato un botto di roba C'è da dire che lo ci gioco da un anno preciso Proprio 360 giorni spaccati Però Oh che è Rapporto incisioni 3 Grazie, ma vabbè Non ho fatto un cazzo Ho fatto 3-1 Buono E allora Dovrei avere qualche botto Ok, per pochissimi Oh, guardate quanti Crediti ho No, regà No, regà Posso comprare questo Edizione assalto Edizione super rara E che cosa si trova dentro sto coso? Skin Skin E basta Ah E in questo? Ah, basta Scusate, se che senza avere questo? Se trovo solo le skin Skin, 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 skin Scusate, allora mi prendo il superiore Edizione veicolo, edizione fucile Versione fucile Ma io voglio questi I pezzi Se ne fucile ci sono i pezzi Butter Potenziato Butter Potenziato I pezzi ci sono Ok, vabbè Policomp Ma regà, tutti quei crediti Perciò Non l'avevo visti che ne avevo così tanti Oh, per la pistola di sto cazzone Minchia, devo rifare la challenge con libri Cazzo Ci ho sempre pensato che la dovevo fare Ma non ce l'ho mai fatta Alla fine Allora, prima mi piace Questa no Questa sì Mi piace Questa qua, come cazzo si chiama? Questa non ce l'ho Questa non mi piace 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 Ah, no, non è quella che ho io Questa è quella che ho io Vabbè, giochiamo Partiamo Volevo vedere se c'è qualche pistolina più simpatica Perché la mia per ricaricare sta un'ora Allora, apriamo sta bella porticida E saliamo qua sopra Siccome sono medico e non sono cecchino Non posso pensare con le cazzo di bombe filo Che a me servirebbero un tot Sì, vabbè, ma sono un... Eh, aspettate Ho avuto un'idea Stavo dicendo, sono un cane Bene Con questa arma Mettiamoci lo scout Aspettate, ce la posso fare Allora Martini Ah, vi faccio vedere solo una cosa Guardate 100% Manca sono l'uccisione con baionetta Quindi Se riesco A non farmi inculare Me la faccio No, fra Perché devi sfruttusare le porte? Cristo Dio Fai salire il nazismo a tutti Ok, qua Ma chi minchere? Dove siamo? Eh, ragazzi Non ci sono più nemici Serio? Mi ha ucciso quello? Sì, va bene Ciao Tiratore scelto 1903 Quello che se voglio Per farmi il Martini È forte Però non è Dio Io ci risalgo Non mi frega un cazzo Guarda che so dove sei No, adesso sono stupido Mi ha ucciso di nuovo questo No, io non ci salgo più Mi sono rotto il cazzo Sono stupido Cioè, ma come cazzo fa A prendermi in continuo? Aspetto Fammi andare qua in culo Un altro tetto a cazzo Mi ha preso il cecchino Per essere bravo Perché col cecchino Mi aumento la precisione Niente Mi stanno Mi stanno Asfaltando Peggio Ok Mi sento uno Che sale le scale Cazzo Siccome non mi voglio Fare inculare da dietro Questa la mettiamo qua Ma dove è il cecchino? Ok Mi sono cagato in mano Eccolo Stronzo Siamo in vantaggio Che lo siamo Quando la brisco la pazza Qua sopra Che problema Revolvere E caricarla Edge Ma dov'è la chat? Perché non vedo la chat Delle morti? Allora che ci penso Non c'è Che spazio Cazzo Ma ancora l'ho visto Dietro Ma ecco Guardi Beggo pure Perché sono un bastardo Stavo dicendo Poi senza offesa Ma cosa ho imparato Ormai su Rainbow Dopo Kiltis Di Begare Devo stare attento All'audio Oh ma che cazzo E' raga No 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 E sali Che dobbiamo camperà Bella Ma c'era Ma c'era uno dietro Stavolta è vero Dov'era? Minchia Ma io dico Porca madonna Veramente Poi una deve bestemmiare Che cazzo Ci fai Là sotto Dall'altro lato De Dio No aspetta Allora devo andare A destra Ok destra Qua è lui Andiamo la piglia Com'è bello Com'è bello Quando ti prendono Ti becchiamo E ce ne andiamo No che cazzo faccio C'è il nemico qua Allora facciamoci I cazzi nostri Qua belli Non ci vengono a disturbare Quindi no Non disturbiamo loro Aspetta Ma qua è fuori Madonna Mi sono Raga quando sento Le baianette Mi cago in mano Suga Siamo a metà Avanti così Sono bravissimo Raga Eh vabbè Stavo sentendo Ero zitto Perché senti Che cazzo è esploso Come cazzo sono esplose Anzi Sentivo loro camminare Cazzo Stato zitto Perché avevo paura Che mi saliva qualche scala Alla fine non è salito nessuno Però Ma è già solo il pensiero Che potrebbe salire qualcuno Mi fa cagare in mano Che sono una persona Troppo paura Ma andiamo via Nel rush qua Più totale All'inseguimento Eh vabbè Siamo due Siamo due Aspetta Medico Medico Oh però Stai un nome Medico No Non parlo più Mi sono secato No 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 vabbè Allora Senti Sono ringojonito Quando ci lo ho visto Così Ma sì perché sembro Sono ringojonito Siete che ci dovete prendere Della mano Un botto Vabbè ma botte Fino di rica È un gioco dove ci dovete giocare pesantemente Se volete essere bravi Io quando ero bravo Ci giocovo Ogni 30 nanosecondi Ma comunque Non dovrei parlare più Veramente Ogni volta che dico Medico Mi dovevi stare zitto Ma vaffanculo Ogni volta che dico La parola Medico Quello Puntualmente Non mi rianimo Se ne sbatte il cazzo In un'ora in poi L'insegnamento Quando sono morto Silenzio Silenzio totale Non si parla più Total silence Magari ne prendessi uno Col martini Che cazzo sono i nemici Io non li vedo E me ne vado Ciao Perdo minchia 77 di vita Cazzo Mi sono buttato Da un palazzo Allora Qua mettiamo Le bombette tattiche Tac Qua ci mettiamo noi Pezzo di Minchia Ma se ti prendevo così Allora Dobbiamo ricaricare La pistola Ce n'è uno Qua davanti a noi Che ci saluta Ciao Damien Questo è uno che sia come me In modo english Però molto britannico Oggi ci sento british Ci sdraiamo un attimo Perché ci sono troppi spari Da dietro il culo Eccolo Eh vabbè E vabbè è stato bravo No rega Qua è bravo Lui veramente Bravo 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 Il botta di culo Non la posso avere Sembra Una volta Sì Ora io vado Ora io vado dietro Con il revolver Gli spacco La faccia io Allora Aspettami che arrivo Minchia Vabbè Lasciamolo Lasciamolo Non interessa Ma a noi ci interessa Quello che sta Alla nostra destra Appena saliamo Ma dove cazzo Scusa Scusa Non è qua il palazzo Tu madre Tu zia E tu sorella E che siccome Sono pezzi di merda Una E due No Tu madre Oddio C'è là Minchia Ucciso dal gas God Almeno sono morto Con il mio gas No Sono morto All'ultimo Peccato Potevo fare Senza la morte Spero morte Minchia Però morte Ho avuto un botto Vabbè Non è male Come si è liberato Non è male Si accetta Si accetta GG Bella Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Goodbye Bye